Con questa iniziativa noi vogliamo presentare allo stesso tempo un momento sia di interesse culturale con artisti molto molto validi, quindi un'iniziativa di alto livello dal punto di vista musicale, ma è fondamentale il contesto in cui è inserita. Essenzialmente per noi è molto molto importante il fatto che non si parla di concerti, ma si di vesperi d'organo. Questo avviene in una chiesa e per noi è molto importante proprio la spiritualità che ritroviamo in questo evento. Tutto tende a caratterizzare questo, anche volutamente le parole sono lasciate al minimo perché sia tutto inserito in un ambiente carico di silenzio, di significato. Chiediamo al pubblico di non applaudire anche per questo. Per cui c'è successivamente musica e interiorità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.